la bella ragazzi questo mi sembra il vostro mister colomantone oggi vedremo la quattordicesima sfida che mi è stata proposta su formula 1 2012 allora lo youtuber si chiama isvolta battlefield 3 credo che sia un giocatore di battlefield 3 lo suppongo dal nome comunque va bene allora mi fa un premio alla cina con la marussia con difficoltà esperto va bene cambiamo gli occhiali da solo con quelli da da orbi comunque andiamo avanti allora a orco dove sta cofietta di merda ma luce boh non mi è tanto allora esperto però ragazzi metto il cambio automatico e poi lascio così esperto se ehm ok ok piante intensa giusto allora allora difficoltà esperto no 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 prosegui ok gran premio alla cina ehm ok ok c'è il sole bro sono praticamente ultimo credo che con queste scuderie io cercherò di fare il meglio possibile ma io vh ma non c'è t t t t andiamo dai dai guarda il boss che piccolo rispetto a quello che erano i clan proprio un tubulo, un buco non c'è nessuno primo mi sembra Raikkonen io parto praticamente c'è Schumacher non ho neanche il car, c'è Schumacher ok no ok 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 No ok prima moto è Ma che cacchio? Ma porca cosa c'è? Era partito così bene? Va bene. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.